Entusiasmo e lunghi applausi al teatro d'annuncio per Ricciardo Bona, vincitore del Grammy Awards più di tre nomination in occasione del suo concerto nella segna dei 50 anni del Pescaraggez. Il noto artista camerunense, chitarra e voce, leader del progetto della frontiera, si è esibito con Antonio Rei, chitarra flamenca, Paco Vega, percussioni e Pedro Cordoba danza. Il concerto è stato promosso in collaborazione con la Mark Bass, azienda abruzzese leader mondiale nella produzione di amplificatori per bassi elettrici e chitarre che lo stesso Ricciardo Bona ha elogiato durante il concerto. E questa sera appuntamento a Pescaraggez con Didi Bridgewater, sempre al teatro d'annuncio con lo spettacolo Je d'amour con Ira Coleman al basso, Luis Winsberg alla chitarra, Mark Bertomier alla fisarmonica, Minino Garai, percussioni per questa serata speciale. Didi Bridgewater esegue brani strettamente legati a Josephine Baccar, così come i popolari chansoni francesi dell'epoca come Edith Piaf e Charles Trenet. Grazie per la visione!